Ciao a tutti, allora vi racconto che oggi sono in settima giornata dell'operazione, quindi sono passati esattamente sette giorni dall'intervento, le cose migliorano giorno per giorno, oggi sono uscito per la prima volta in macchina, ho fatto 20 minuti di macchina e due passi per fare delle commissioni, sono tornato a casa abbastanza stanco, però insomma tutto sommato l'ho potuto fare, la resistenza aumenta giorno dopo giorno per cui si migliora, le cose che mi lasciano un pochino perplesso in questo momento sono fondamentalmente legate ai sapori, mi sembra abbastanza noioso tutto quello che mangio, abbastanza stufante, stufa velocemente ma come sapore, come quantità mangio meno di quello che c'è scritto nella dieta perché mi sento sazio subito e bevo troppo poco per cui devo assolutamente pensare ad installare un'app sul telefono perché fischi suoni e canti quando è ora di bere e devo fare pace con il multivitaminico e le proteine perché oggi non le ho prese e l'altro giorno quando le ho prese facendo il video ne ho preso la metà di quella che doveva essere la dose giornaliera, quindi i buoni propositi per domani sono quelli di cercare di mettere un pochino più ordine nelle cose che mangio e farmi un giro al supermercato per vedere se stando nella dieta riesco a cambiare un attimino i sapori. Direi che per oggi è tutto, buona serata e buonanotte.